BAM 2019, siamo qua per presentare i nuovi motori elettrici Bike e Bike, il best di Bike e Bike, due motori che vanno montati su delle muscolari per farle diventare e-bike elettriche. I motori sostanzi studiati da Matteo Spiaggiari, che è l'ingegnere che ha studiato questi motori e chi meglio di lui può parlare delle caratteristiche tecniche dei motori. C'è il kit belt, primo modello della gamma di Bike e Bike ed è un kit che si può applicare su qualsiasi bicicletta muscolare per trasformarle in una potente e-bike. È composto dal sistema motore, batteria e in più il display che è costituito essenzialmente dallo smartphone che attraverso un'app che si può scaricare gratuitamente dà la possibilità di settare i diversi parametri per rendere il motore come lo si vuole. La batteria, abbiamo due diversi modelli, 550 wattore e 670 wattore, mentre le potenze del motore variano dai 250 watt fino ai 1500 watt, esclusivamente dedicato ad un utilizzo su strade non pubbliche e quindi su percorsi privati. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!